La Valle del Tricolle se lo tiene ben stritto, i tifosi della vista Renaccadia se lo coccano. David Munar, calciatore classe 80, alla soglia dei 40 anni, ha trovato la sua seconda giovenizza ad Ariano. Munar, francese di Chantilly, ha realizzato sei reti fino a questo momento ed ha deliziato la platea ofitana con giocate di fino ed assist mozzafiato. Si è preso la scena nell'ultima partita sfortunata persa a Ponte Cagnano, con una tripletta spettacolare che non è servita però a portare punti a Mister del Vecchio. Arrivato in Italia a Foggia nel 2004, ha fatto bene dappertutto, dalla Lega Pro alla B. Nel suo ricchissimo curriculum anche l'esperienza di Siena con Mister Antonio Conte in panchina. Insomma, un calciatore che non ha bisogno di presentazioni. Nell'imminente girone di ritorno che verrà, la vista a Ariano Accadia dovrà ripartire da lui e Munar, combattente qual è, non si trerà di certo indietro. Allora continua così David, che l'Irpinia e Ariano Tutta vuole il ritorno del grande calcio sul Tricolle.